Un gemellaggio incredibile. Hashtag testati alcol, hashtag non ci ferma nessuno. Ci siamo trovati incredibilmente su Facebook, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e è il secondo anno che collaboriamo. Collaboriamo perché secondo il nostro modo comune di vedere la vita, la vita non deve dipendere, la vita deve essere fatta da noi stessi, con i nostri progetti, le nostre volontà, il nostro entusiasmo. Io il tour motivazionale ideato da Luca Vete, hashtag non ci ferma nessuno, l'ho conosciuto casualmente andando su Facebook e da lì sono nate le nostre relazioni, le nostre conoscenze e il nostro fare squadra, perché effettivamente il web è una miniera d'oro per poter realizzare progetti sociali, come quello di hashtag non ci ferma nessuno, che riesce a racchiudere centinaia di migliaia di ragazzi in un progetto in cui Luca crede tanto, ma anche noi ormai cominciamo davvero a crederci perché è il secondo anno che ci partecipiamo. Grazie davvero di averci chiamato.